amici di senato ben ritrovati oggi per voi dalla serracar in strada statale lago di vivrone 45 a burolo di ivrea festeggiati insieme a noi 100 anni di citroen in italia insieme anche a giorgio travaglini ciao giorgio ciao vittoria bene siamo qua arrivati a 50 anni della serracar qui a ivrea a burolo per la precisione dove possiamo servirvi come officina magazzino ricambi vendita del nuovo usato e chilometri zero e vedremo qualcosa insieme andiamo eccoci qui col nostro cavallo di battaglia citroen c3 auto più venduta anche per il mese di maggio in italia che questo mese può essere vostra a 13.950 euro oppure 69 euro al mese ma ricordate alla serracar la potete comprare anche senza finanziamento ed eccoci qui nel nostro parco usato e vi voglio ricordare che questo mese qui alla serracar parte l'operazione cento anni di citroen con 2.000 euro di eco incentivo con la vostra vettura da rottamare e vi presento subito una renault capture hybrid anno 2021 chilometri 21.000 a solo 21.500 euro venite a scoprirla perché un'auto fantastica e qui siamo in casa jeep con un fantastico renegade mille t3 due ruote motrici allestimento limited vettura con 48.000 chilometri sempre di taglia andata a soli 21.500 euro e qua siamo in casa nostra c5 1.2 purtec 130 cavalli allestimento live con sensori di parcheggio anteriori posteriori solo 49.000 chilometri vettura interamente taglia andata presso la nostra sede di burolo a soli 21.500 euro ed eccoci qui in casa volkswagen con una volkswagen polo 1.6 turbodiesel 95 cavalli del 2019 con soli 53.000 chilometri questa vettura può essere vostra a 16.800 euro e ricordate da noi c'è l'eco incentivo per la vostra vettura da rottamare fino a 2.000 euro alla serracar potete trovare anche vetture elettriche una fantastica fiat 500 del 2021 con soli 16.000 chilometri a un prezzo super promozionale 17.500 euro alla serracar potete trovare anche vetture aziendali come questa fantastica ec4 oppure una citroen c3 1.2 benzina tutte in pronta consegna siamo giunti ai saluti e quindi vi ringraziamo per essere stati con noi fino ad ora ringraziamo giorgio grazie a te vittoria giorgio travaglieni vi aspetta dunque alla serracari in strada statale lago di viverone 45 a burrolla di ivrea attenzione non solo vendita ma anche post vendita anche assistenza a 360 quali per la tua citroen siamo il riferimento da oltre 50 anni per ivrea e cannavese quindi per qualsiasi problema dubbio perplessità venite a trovarci avremo la soluzione per voi la serracar grazie a tutti grazie a tutti